Le violenze nel carcere di Santa Maria Capuavetere, il garante dei detenuti della campagna, ha detto che esistono nuovi video ancora più raccapriccianti di quelli diffusi nei giorni scorsi. E sulla vicenda è intervenuta poco fa l'emmesso dell'interno, Luciana Lamorgese. Ascoltiamo le sue parole. Sono immagini che nessuno di noi avrebbe voluto vedere. Su questo poi la magistratura farà gli interventi del caso. Però bisogna anche dire che non possiamo noi, sulla base di alcune persone, criminalizzare un intero corpo, qual è quello della polizia penitenziaria, che ha un lavoro complicato e difficile. Ed ora alla vigilia della semifinale degli europei, la sfida mediterranea tra Italia e Spagna.